buona domenica e benvenuti in un nuovo video di quadricottero news eccoci con il dji mini 2 un drone ancora validissimo nonostante l'uscita del mini 3 pro e recentemente del mini 3 perché ha delle caratteristiche ancora al top soprattutto se riusciamo ad acquistarlo in offerta a maggior ragione rispetto all'ultimo arrivato mini 2 se che è vero che costa meno però è un mini 2 con alcune castrazioni la prima il fatto che mini 2 se registra soltanto fino a 2,7k la seconda è che il mini 2 se purtroppo non è supportato dagli sdk e dji non ha detto nulla su un eventuale futuro supporto degli sdk per il mini 2 se questo vuol dire che con il mini 2 possiamo utilizzare app terze parti anche per fare fotogrammetia inoltre il mini 2 se non ha la possibilità di collegamento wifi bluetooth e quindi manca il quick transfer e manca anche il led frontale multicolore la novità è che due giorni fa è uscito un nuovo firmware per il mini 2 la versione 1.07 200 che ha introdotto un'unica funzionalità da utilizzare con l'app dji fly versione 1.9.9 perché la 1.9.8 è durata poche ore in quanto è stata subito sostituita perché non permetteva a chi aveva il dji r2s di farlo decollare perché presentava un codice di errore e quindi dji ha subito sostituito con la 1.9.9 come dicevo l'unica novità di questo firmware per il mini 2 è quella che è stata aggiunta una voce per fare il reset di tutti i parametri anche quelli registrati all'interno del drone adesso nel tab informazioni della dji fly c'è la nuova voce elimina tutti i dati che è diversa da quella che c'era precedentemente perché in questo caso si eliminano tutti i dati anche memorizzati all'interno del drone e quindi i dati nella memoria del drone e della scheda sd le registrazioni all'interno del drone come ad esempio i log le licenze di sblocco quando chiediamo uno sblocco di una no fly zone dji una dji geo ci viene inviato un file da memorizzare all'interno del drone questa licenza sarà eliminata e altri dati dell'utente memorizzate sul drone come è scritto tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti da ricordare che se abbiamo avuto un crash o qualcosa qualche evento per cui dobbiamo far analizzare il log alle dji ad esempio abbiamo c'è stato un malfunzionamento il drone si è schiantato non per colpa nostra dobbiamo inviare il drone a dji dji poi esaminerà i log e ci dirà se l'intervento passa in garanzia oppure no se noi cancelliamo facciamo questa operazione prima di inviare il drone a dji tutti i log interni saranno cancellati quindi dji non potrà più verificare cosa è successo e così per questo motivo è stato scritto è stata scritta questa frase se si è verificato un incidente contatta l'assistenza dji e assicurati che la valutazione del tuo prodotto sia risolta prima di cancellare i dati in caso contrario sarai responsabile per eventuali conseguenze negative che ne derivano quindi da mantenere non solo per l'eventuale riparazione in garanzia per un crash è arrivato non per colpa nostra ma anche per verificare le responsabilità in caso di incidente vero ovvero magari il drone ha avuto un malfunzionamento con questi log riusciamo a dimostrare che non è stata colpa nostra e quindi se li cancelliamo prima non possiamo più dimostrarlo e quindi dobbiamo fare attenzione a questi aspetti però è anche una funzione utile nel caso in cui intendiamo vendere il drone facendo agendo su questa voce eliminiamo tutti i dati tutti i log interni non c'è più nessuna traccia di noi all'interno del drone possiamo venderlo tranquillamente ricordando che comunque le batterie i cicli i cicli di scarica delle batterie restano intatti quindi non saranno cancellati e concludo dicendo che con questo nuovo firmware DJI non ha ancora messo fine alla possibilità di forzare il drone in FCC con l'app Mavic Air 2 FCC abbiamo parlato anche nel canale a scopo didattico naturalmente perché sappiamo che se il drone trasmette con potenze FCC potrebbe superare quelle ammesse in Italia e in Europa e quindi trasgredire la normativa sulle radiofrequenze bene direi che è tutto non mi resta che augurarvi una buona continuazione ringraziarvi per l'attenzione invitarvi ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti in particolare se state ancora usando il mini 2 e cosa ne pensate di questo drone se ancora valido o meno ciao a tutti e buona continuazione ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news